ciao ragazzi buongiorno buon pomeriggio buon eccomi qua per darvi le spiegazioni che avevo detto vi avrei dato questi giorni perché giusto così allora non sto più facendo live l'avete visto video quelli che ho messo fuori sono tutti registrati giorni e giorni fa perché io tranne il mukbang ultimo che ho fatto gli altri video li avevo già registrati più di una settimana fa ok ecco se vi ricordate durante i video e vi dicevo che non stavo facendo più live che non facevo più video perché c'era una persona la quale tenevo molto che volevo bene che stava male che ecco perciò cioè non avevo proprio l'entusiasmo non avevo proprio la voglia non mi interessava parlarne per specularci sopra per farci dei video non mi interessava proprio capito ecco perciò ho preferito stare nel mio nel mio mondo e non parlarne ok ecco ma adesso posso parlarne perché fortunatamente la persona di cui parlavo sta molto meglio è ancora in ospedale ci rimarrà ancora penso per tanto però almeno è non è più in pericolo di vita e sta molto bene bene diciamo bene comunque meglio di prima ho avuto il suo benestare per poterne parlare altrimenti non l'avrei mai fatto perché non l'ho mai nominata e sto parlando di luisa ciao luisa mumia la nostra mumia ecco quella che io chiamo mumia la prendo anche quando stava male ecco dicevo mumia torna tra noi per stemperare un po ecco allora la nostra mumia la nostra luisa zago che ormai per noi per me per mary per alessia diventata un una parte di noi un'amica perché noi sentiamo sempre in privato e e ormai siamo diventati amiche capito ecco e oltre che moderatrice per me un'amica non vi spiegherò proprio tutto perché però è stata molto male è cominciato tutto con una bronchite che non stava bene aveva una bronchite la febbre e da lì è precipitato tutto in pochi giorni non aveva il covid perché non aveva il covid è precipitato tutto in pochi giorni ha cominciato ad avere la saturazione del dell'ossigeno a 75 cioè proprio bassissima è stata portata in ospedale è stata portata in ospedale noi avevamo notizie solamente tramite la figlia che fortunatamente ci era stato dato il numero tramite la figlia avevamo notizie tramite lei ma abbiamo passato vi giuro dei giorni da incubo bruttissimi perché pensavamo vi giuro che che pensavamo al peggio perché quando è stata portata all'ospedale la sera la figlia ci ha detto che era se era aggravata che purtroppo avevano dovuto intubarla perché non respirano riusciva più aveva la saturazione che non si alzava troppo bassa ed ha passato di giorni veramente brutti dove noi siamo state veramente vi giuro mamma mia abbiamo passato dei giorni orribili non vi dico perché poi essendo distanti avendo solamente notizie dalla figlia che ci mandava un messaggio avevamo paura ogni messaggio che mandava che ci dicesse la peggio è capito e non poter sentirla è stato guardate veramente stati dei giorni bruttissimi bruttissimi anche perché cioè noi l'abbiamo sentita l'ultimo giorno prima che poi l'hanno portata all'ospedale che non era più capace di parlare farfuliava cioè non era più lei cioè parlava di cose che non c'entravano niente perché la saturazione era troppo bassa perciò non arrivava nemmeno il sangue l'ossigeno al cervello perciò era confusa diceva cose a caso cioè è stato allucinante vi giuro è stato mamma mia abbiamo avuto tanta tanta paura e fortunatamente poi il giorno di natale la mattina di natale abbiamo avuto la notizia dalla figlia che era stata respirava normalmente gli era stagli era stato tirato via era stata stubata se penso si dice si dice così e hanno tirato via insomma dove respirava artificialmente e era ancora in rianimazione perché l'avevano messo in rianimazione intubata e respirava autonomamente per fortuna sempre con l'ossigeno perché aveva sempre attaccato l'ossigeno ce l'ha tuttora perché ce l'ha tuttora l'ossigeno c'ha quello al naso lì perché ci ha mandato delle foto e però almeno respira respira autonomamente non è più in rianimazione non è più intubata e difatti se voi guardate sotto ieri la figlia dopo giorni gli ha portato il telefono perché non ce l'aveva gli ha portato il telefono abbiamo potuto parlargli ha ricominciato a commentare sotto perché adesso sta molto meglio avrà un percorso lungo perché dovrà stare all'ospedale ancora per un bel po perché lei dopo non ha solamente altre patologie capito altre cose che non sto a dire perciò dovrà riprendersi per bene ecco e perciò era questo il motivo per la quale io non me la sentivo di fare live perché ero troppo in pensiero ero in angoscia eravamo noi in angoscia avevamo paura che succedesse la peggio capito abbiamo passato di giorni brutti e sinceramente a me delle live dei video non avevo la voglia non avevo non mi interessava neanche niente vi dico la verità ecco e anzi luisa mumia quando uscirai dall'ospedale mi dovrai dare una parte per tutti i soldi che ho perso a non fare live video per colpa tua tacitua mumia ecco tanto perché allora poi non è finita qua perché il giorno di natale ecco ho ricevuto questa bellissima notizia partita la mattinata bellissima contentissimi o felicissima meno male già avevo detto stasera dai facciamo la live dato che sta bene bla 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 ma ancora avessi detto poche ore dopo comincia l'apo ecco comincia l'apo è stato male l'apo natale proprio i due giorni peggio non poteva trovarli per star male perché sapete voi vetrinari è natale ecco perciò ha cominciato l'apo ma stare veramente male ha cominciato che si nascondeva sotto al letto la coda tra le gambe ho detto bah come mai forse ha sentito qualche sparo qua e là poi di punto in bianco tutto di colpo si è messo a piangere ma fo cioè 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 come lo stesso ammazzando capito cioè e puntualmente ogni cioè lui faceva così per 30 secondi poi basta tremava poi dopo dieci minuti ricominciava un'altra volta a piangere così ma forte che sembrava lo stesso ammazzando noi in panico io mio figlio in panico perché mo che cazzo facciamo cioè il giorno di natale vetrinaria non c'è l'unica vetrinaria che quello 24 ore d'urgenza è dopo trento perciò 20 chilometri senza macchina il giorno di natale non c'è ecco in crisi guardate posso ringraziare ma tanto tanto perché guardate vi dico la verità ci sono veterinari e veterinari sono come i medici uguali quelli che lo fa quello che lo fanno per amore e quello che lo fanno per soldi ecco la mia vetrinari lo fa proprio per amore per gli animali perché vi giuro io sia natale che santo stefano ogni ora anche se era in famiglia non era qua perché mi aveva detto che era dopo arco qui suoi ecco a festeggiare ogni ora vi giuro io mandavo il video di lapo e guardava il video e mi diceva cosa fare star tranquilla cosa dargli fino alle 10 di sera ogni ora noi ci sentivamo per il lapo e poi la mattina alle 8 è stata lei la prima a scrivermi come è andata la notte cosa ecco perciò la devo ringraziare guardate che ecco non dico altro perché non so quanti l'avrebbero fatto vi giuro non so quanti l'avrebbero fatto da qua capite che il suo lavoro lo fa proprio per amore verso gli animali ok ecco perché altrimenti in altra mi avrebbe detto chiama il servizio 24 ore e chiama la capito ecco e perciò gli ho mandato i video perché ogni volta che l'apo faceva così gli mandavo il video e lei mi aveva detto guarda sicuramente un problema intestinale o avrà mangiato qualcosa poi un cane anziano perché c'ha 13 anni è più delicato e mi ha detto vedo che continua a lappare perché quando faceva così continua a tirare fuori la lingua tipo a lecarsi no ecco ha detto sicuramente ha un problema intestinale ha detto ha mal di pancia mal di stomaco avrà dei crampi sicuramente che gli vengono a ogni tot di tempo gli vengono dei crampi ed è lì che che ulula e piange così no ecco perciò ci ha dato per fortuna lo avevo in casa perché la farmacia di turno era a perdine e il buscopan mi sembra sì da dargli tre quarti di quello non dargli da mangiare che bevesse ecco ben vi giuro è stato male natale è stato proprio due giorni peggio non potevano esserci perché c'è capito ecco non perché c'era la festività che non me ne fregava niente ma appunto perché natale santo stefano cioè è tutto chiuso capito tant'è che lei poverina mi ha detto guarda io torno indietro dall'arco verso le 10 se sta peggio mi fermo mi fermo e lo visito ok però dopo mano a mano che passavano le ore si tremava si era limoggio però non nullava più come prima che piangeva che sembravano ammazzassero un po alla volta era cominciato a passare i crampi che aveva ogni dieci minuti capito ecco e beh vi dico sia stati qua io e mio figlio che è stato sempre qua nel letto con me perché l'apo quando sta male ci cerca a me anche mio figlio perciò poverino era un po che magari mio figlio era di là era un po così che non sapeva dove andare no perciò è rimasto qua come mio figlio in camera siamo stati qua e abbiamo passato natale santo stefano praticamente con l'apo a stargli dietro 24 ore io vi dico vi giuro non c'è natale non ho mangiato niente niente il caffè e basta mio figlio uguale non abbiamo mangiato cioè ma manco venuti in mente mangiare perché a vedere il cane così vi giuro a me morivo vi giuro a vederlo così piangere ma proprio piangere cioè sembrava lo stesso era ammazzando mamma guardatevi giuro mi hanno tirato via dieci anni di vita mi hanno tirato via dieci anni di vita e io che cercavo di star forte piangevo stavo male guardate ho passato un natale ma appunto non perché era natale perché io non è che avrei festeggiato qua e là però appunto perché essendo natale c'è è tutto chiudo anche per la farmacia vi dico cioè se non avessi avuto le pastiglie in casa che me le aveva ordinate l'altra volta che era stato male avrei dovuto andare a pergine perché era l'unica farmacia di turno perciò chiamare un taxi perché i treni corriere il giorno di natale ce n'era uno ogni morte di papa perché chi è che vai a chiamare il giorno di natale ragazzi sono tutti in famiglia tutti c'è capito dovevo chiamare il taxi andare c'è tutto un casino veramente stato poi a santo stefano fortunatamente non ha la notte fino alle quattro e mezza cinque sia stati qua svegli a guardarlo perché tremava e continuava con cioè proprio aveva la febbre sicuramente perché aveva la febbre aveva il naso secco secco ma sicuramente al cento per cento aveva la febbre e era proprio aveva il naso caldo e secco fino alle quattro e mezza anche cinque così è rimasto sveglio che non riusciva noi che dicevamo chissà che si appoggi chissà che si appoggi la testa che dorme almeno se dorme niente era sempre sveglio poi fatto sta che fortunatamente se si addormentato e ha dormito a santo stefano anche lì la veterinaria poi alle otto del mattino e mi ha detto guarda non gli dare da mangiare fagli solamente un po di riso in bianco e basta non gli da biscotti non gli dar niente ha detto se un'altra un'altra pastiglia e vediamo come va a caso mai domani ecco lo porti in ambulatorio ma sta bene sta bene per carità e santo stefano è stato moggio è stato moggetto ha mangiato sì un po di riso però lo vedevi che era molto che il giorno prima era stato male non era lui che giocava quella era molto moggetto molto giù tant'è che come ho detto santo stefano doveva venire su mio fratello e la famiglia e mangiare insieme perché a natale mia cognata era stata con la casa della madre e il giorno dopo sarebbero venuti qua e io ho chiamato mio fratello gli ho detto guarda non venite nemmeno perché gli ho spiegato la situazione e gli ho detto io voglio di festeggiare zero e poi io voglio star dietro al cane non ho voglia di star lì su per far da mangiare mangiare cioè a me non me ne fregava un cavolo sinceramente di mangiare di stare in compagnia non me ne fregava niente io volevo solamente che il mio cane stesse bene e basta a me tutto il resto il mondo che era fuori non mi interessava niente perciò gli ho detto guarda non venite nemmeno perché io voglio stare dietro al cane non voglio che si agiti perché lui dopo quando vengono si agita vedete voglio che stia tranquillo voglio che stia bene ecco perciò anche santo stefano sia stati dietro a lui dopo poi alla volta si è ripreso qua e la mostra bene mangiano da ieri mangia normalmente e tutto quanto e anzi vediamo l'appo io vorrei vedere che molte i beni di saluta saluta per l'acqua qua 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 dì qui sono stato tanto male chiedo li sono stato saluta ci sono stato tanto male sì sono stato tanto male mezzo biscottino d'altro posso dare che cazzo ha saluta non ho stato tanto male vero sì adesso sto bene però ecco insomma ci ha fatto perdere dieci anni di vita anche l'appo ecco insomma perciò vi dirò che ho passato delle feste bellissime, stupende tutti vorrebbero passare le feste così dovevo mangiare perché avevo detto ma sì chi se ne frega avevo detto le feste sono fatte che poi anche se era Natale a me non me ne fregava niente però era un po' una scusante per mangiucchiare qualcosa perciò ho detto chi se ne frega ma sì dai ne approfittiamo è Natale fino al primo smangiucchio anche perché venia sul mio fratello qua e là si mangiava si beveva ecco invece passato Natale e Santo Stefano che ho fatto la fame ho fatto la fame ho mangiato niente cioè zero 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 ecco ma ho fatto fare la dieta anche se non la volevo fare quei giorni lì ecco perché proprio non ho mangiato niente e comunque l'importante è che stia bene mi rifarò l'ultimo dell'anno a mangiare qualcosa in più ecco mi rifarò e niente questo è tutto sperando non succeda altro perché io avrei già dato in questi giorni guardate ecco mi è rimasta tanta ansia perché vi dico io ho preso tanta paura specialmente per il lapo vi giuro perché ecco che io avevo tanta adrenalina poi quando mi è scesa l'adrenalina che ho visto che stava meglio cioè sono crollata ieri proprio ero morta cioè ero una pezza da piedi proprio ero giù ero ansiosa avevo l'affancio stavo proprio perché proprio sapete quando cercate di reagire con l'adrenalina però quando vi scende proprio mamma mia comunque dai siamo positivi l'importante è che adesso sta bene quello che dovevo dire vi ho detto 20 minuti vabbè chi se ne frega io vi mando un bacio speriamo che ce la mandino buona che adesso succeda più niente che stiamo meglio che ricominciamo a fare live e tutto quanto io vi mando un bacio e ci sentiamo alla prossima buon 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 fine anno buon inizio ma ci sentiamo prima ci sentiamo farò una live sicuramente magari anche all'ultimo dell'anno ma vediamo non vi prometto niente speriamo non succeda altro ciao ragazzi un bacio ciao Luisa la mummia salutatela anche voi sotto la mummia che è contenta che vi risponde tanto all'ospedale non fa un cazzo adesso perciò deve stare lì deve rimanere lì non deve fare altro perciò ecco salutatela ciao ragazzi grazie a tutti